Musica Sono Fabio Masiero, sono responsabile commerciale dell'Agricola Lusia. L'Agricola Lusia è un'azienda consolidata nel territorio di Lusia, nella provincia di Rovigo. È situata lungo le rive dell'Adige e la particolarità che è il terreno alluvionale, l'ambiente e le temperature ideali hanno fatto sì che sia una zona vocata per la produzione degli ortaggi. Specifiche produzioni a basso impatto ambientali, la continua ricerca di prodotti di qualità e di varietà omogenee, la collaborazione con due laboratori accreditati, la collaborazione con due agronomi che ci seguono tutto quello che è la filiera di produzione, ci fa sì di dare al consumatore finale un prodotto di eccelsa qualità ma soprattutto sicuro. Musica Un prodotto molto importante di produzione in questa zona sono le insalate. Le insalate, specialmente l'insalata gentile, di cui abbiamo tra l'altro anche l'IGP. L'Agricola Lusia raggruppa un cospicuo numero di produttori agricoli e orticoli fidelizzati e scelti per produrre un prodotto di ottima qualità. Mi chiamo Gabriele Davi, sono il titolare insieme a Tre Fratelli di un'azienda vivaistica, contiamo una settantina di collaboratori e produciamo nell'arco dell'anno circa 200 milioni di piantine orticole. Di questi 200 milioni, 50 milioni sono di insalate lattuga gentile, fra cui anche l'insalata IGP di Lusia. Il nostro lavoro parte dal seme e arriva alla consegna di una piantina di circa questa grandezza, che poi andrà consegnata all'ortolano che la porterà a termine, quindi poi nella fase commerciale. Musica I supermercati Alì hanno scelto l'Agricola Lusia perché è un fornitore affidabile che valorizza il territorio, produce dei prodotti di ottima qualità e arriva sulle tavole del cliente finale in pochissimo tempo. Musica 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 Musica